Ok, allora, chi siete? Cosa fate? Io sono Alessandro Cappa, faccio parte dei mitici Brokers Mi Mama Jalma Siamo con i Recchiabilli Son de Wetter Siamo i Bari Blues Connection Siamo lo Stricos, facciamo musica a surf Siete con Ivan Dell'Edra Noi siamo i Pepperon Jive Mafia Trunk In via Sparano, Bari Bari suona! Finalmente la musica invade la città E diventa protagonista nelle relazioni Tra coloro che praticano questi luoghi Attraversandoli, guardando le vetrine O semplicemente raggiungendo un luogo predeterminato E incontrando quelli che sono gli artisti Capaci di animare la scena underground parese E produrre un'economia fondamentale per l'intera città Evento organizzato da Conf Commercio Bari E promosso da Puglia Sound Per pubblicizzare ma soprattutto per far capire A tutti quanto la città di Bari sia via Ma soprattutto perché siamo l'accoglienza del Medimax La più grande fiera internazionale della musica E c'è il rock, c'è il blues, c'è lo swing con l'indy hop, c'è il folk, il country Praticamente si suona di tutto Siete bravissimi, simpatici, bravissimi Noi non ci fermiamo mai E non tanti sono bravissimi Ma oggi ci siamo fermati perché ci piace Sono stati molto allegri, molto bravissimi Molto bella, molto coinvolgente E poi dare voce a questo tipo di musica è una cosa molto bella Da ripetere magari più di una volta all'anno se è possibile Bari suona Bari suona Bari suona